vediamo nichi con questo brocchino abbastanza una pesca dente o ganascia soprattutto ganascia una cannetta che a stento arriva a 4 metri ma nichi che gli tocca puntasse uomo e ora anche infilarlo nel guadiro non è in presa da poco ma scusa ma e te devi calcolare anche quelli che fregono guardate che nave insomma gira gira la presa grazie 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 grazie